Signori e signore, buongiorno! Grazie di essere qui, questo nuovo video, direte ma che caspita sta succedendo, cos'è questo foglio bianco e la web lì su in alto? Beh, diciamo che è un video un po' particolare, infatti se lo gradirete, magari se ne possono tranquillamente fare di altri. Quello che vorrei analizzare in questo video è una proposta di ripartizione sulla base di tre allenamenti settimanali e perché noi in un prossimo futuro parlare anche delle quattro, delle cinque sessioni e così via. Quindi un'idea di quella che potrebbe essere la ripartizione dei gruppi muscolari in base alla frequenza disponibile. Partiamo da un presupposto, tre sessioni a settimana sono sufficienti? Sono eccessive? Dipende sempre a chi ci stiamo riferendo e a che punto del suo sviluppo in ambito di cultura fisica, di bodybuilding il soggetto è arrivato. Infatti io credo che tre sessioni a settimana siano veramente molto, molto, molto impegnative per un avanzato. Per quale motivo? Perché comunque parliamo di un soggetto condizionato, di un soggetto forte, di un soggetto che è in grado non solo di spostare alti carichi, ma di reggere anche buoni volumi e di generare un effort considerevole, quindi si parla di intensità percepita, che farà sicuramente molta fatica nel raggruppare in sole tre sedute tutti gli stimoli di cui ha bisogno. Perché andando avanti è logico che, avendo sempre meno margine nello sviluppo muscolare, nell'incremento delle performance, sarà sempre più complesso abbattere quella soglia di adattamento, per cui ci sarà sempre bisogno di dare degli input ulteriori, non unicamente sulla base del volume, non è che se partiamo con 80 serie a settimana, oggi arriveremo alle 300 tra 5 anni, sarebbe insostenibile. Però per un avanzato, anche per dare più spazio ai gruppi carenti, per riuscire a spalmare meglio il volume, direi che le 4 o 5 sessioni sono sicuramente più interessanti. Per un neofita, per un intermedio, le cose cambiano. Un neofita migliora a prescindere, un intermedio può sicuramente sfruttare appieno 3 sessioni a settimana, nonostante io credo che 4 sedute siano sicuramente più interessanti e più semplici da programmare. Parlando di neofiti, quali sono le caratteristiche che li contraddistinguono? Sicuramente, come ho scritto qui, bassi livelli di forza, perché la forza ha bisogno di tempo per svilupparsi, per progredire. Ed è proprio per questo che dovremo far perno su un miglioramento della stessa per quanto riguarda la strutturazione delle prime sedute di allenamento. Quindi è vero che non sono forti, non sono sufficientemente forti, però se voglio progredire in questo percorso, se voglio avere uno sviluppo sia muscolare sia sulla base delle performance, necessariamente è una priorità. Rimane il fatto che se mi focalizzo unicamente sulle 5-6 ripetizioni e su range di lavoro medio-bassi, magari inizialmente non riuscirò a ottimizzare quello che è il risultato sotto il punto di vista estetico e nemmeno sotto il punto di vista delle performance. Se non sono forte, se non ho capacità, come vedete qui, di sviluppare una buona base di effort, quindi di spremermi, perché il neofita non sa cosa significhi realmente arrivare al cedimento. Magari si stanca, ma uscire stanchi dalla palestra o dall'home gym, visto il periodo, e essersi spremuti in maniera specifica, essere arrivati a reale cedimento, sono due mondi differenti. Cosa dovrò fare per ottimizzare il mio percorso all'inizio? Sicuramente puntare a un volume leggermente maggiore, perché questo mi permette di bypassare le mie carenze di forza, le mie carenze sotto il punto di vista dell'intensità percepita, e avere uno stimolo che sia cumulativo, cioè vado ad accumulare lavoro durante la sessione. E il secondo step è aumentare la frequenza di stimolo. Come vedete qui, ho preso due appunti. Immaginate un attimino di aver appena iniziato a mettere il piede sul pedale, quindi state facendo un po' di pratica con l'automobile, e se la prendete una volta al mese, sicuramente prima di fare un buon parcheggio ad esse, passerà un secolo. Se la prendete una volta a settimana o più volte a settimana, le cose cambieranno decisamente, quindi diverrete più abili alla guida in un periodo molto molto più breve di tempo. Quindi lo stesso vale anche in allenamento. Se io faccio panca piana una volta a settimana, faccio squat una volta a settimana, prima che cominci proprio ad essere abile nella gestione del movimento, passerà una vita. Figuriamoci sulle progressioni. Focus marcato sui movimenti, ancora prima che sugli esercizi. Il neofita deve imparare a muoversi, a gestirsi sotto carico. Pensate anche alla complessità che c'è in uno squat, in uno stacco da terra, in una panca, dove non c'è soltanto il muscolo che lavora, c'è quell'aspetto di sinergia che concorre al movimento. Pensate a quanti muscoli concorrono in uno stacco da terra per alzare il bilancio della terra, nemmeno chissà quanto. E avere una buona frequenza di stimolo sugli stessi è sicuramente molto interessante. Quindi, in un'idea di ripartizione dei gruppi muscolari, ma ancora prima di enfasi sui movimenti, sicuramente l'idea di tre full body a settimana per un neofita totale può essere veramente molto, molto, molto interessante. Dove sarà il focus di queste full body? Quindi, in un'idea di ripartizione dei gruppi muscolari, ma ancora prima di enfasi sui movimenti, sicuramente... Sicuramente ogni full body sarà strutturata principalmente su esercizi fondamentali, esercizi di base. Quindi io direi in un rapporto 80-20 tra base e accessori. Poi potrà passare anche a un 70-30, sempre in riferimento ai movimenti di base e agli accessori. Non solo, partendo da questi presupposti di base, l'idea rimane quella di riproporre gli stessi, quindi mi riferisco ai fondamentali, più volte durante la stessa settimana. Potrò fare, volendo, anche tre volte a settimana panca, un paio di volte a settimana squat e stacco, senza alcun problema. Molti di voi penseranno a questo, ma non c'è il pericolo di arrivare in una situazione di overtraining per un soggetto che sta facendo pratica sui movimenti, per un soggetto che non è in grado di sviluppare alti livelli di forza ed effort. No, non c'è. Andando avanti, potrebbe diventare veramente molto molto interessante, in un contesto di evoluzione del soggetto, passare, non so, a un qualcosa del genere. Quindi un full push pull, sempre su tre volte a settimana. Quindi una full body che apre la settimana, con un fulcro marcato sui movimenti di base, quindi non so, panca piana, stacchiamo un pochettino, un pochettino. Rematore, military, calf e squat. Potrebbe essere anche una full body in 5x5 tranquillamente, quindi con un'enfasi marcata sull'aspetto neurale, lo stress meccanico, eccezione fatta per il calf, pre-squat, che è per la mobilità. Mi son permesso di tagliare per accorciare un po' il video, quindi su questa proposta di ripartizione delle split avremo una full body, se vogliamo identificarla come pesante, però dipende sempre, ecco, un attimino sotto che punto di vista stiamo ragionando, in cui avremo soltanto esercizi di base con un classico 5x5, che tra l'altro a me non piace, eccezione fatta per lo squat, e poi due split, una push e una pull, in cui l'input sarà marcatamente tendente a range più ipertrofici, ma non solo, nel senso che come vedete, qui per esempio abbiamo alcuni degli esercizi che già avevamo nella full body, quindi panca piana, military press, squat e rematore, con bilanciere, in questo caso ho messo le gambe, il lower nella seduta di pull, però potete fare un po' ciò che volete, non ci sono problemi, magari si possono mettere i quadricipiti qui e i femorali qui, in cui su questi esercizi ci sarà un ripasso tecnico, quindi panca piana, 3x3 con il carico della full body più una serie da 8-10, in che senso? Che se qui faccio 70 kg di panca piana, nella sessione di push farò 3x3 per 70 kg, che è ben differente che farci un 5x5, tenendo sempre conto che quando si parla di esercizi di base, di rep goal medio-bassi, un minimo di buffer c'è sempre e il cedimento non dovrebbe mai essere differente da quello tecnico, quindi c'è sempre margine, qui c'è ulteriore margine perché ci sono due serie in meno, due ripetizioni in meno per serie, ci sarà modo di attivare senza avere un impatto a livello sistemico troppo importante per essere poi recuperato, ci sarà la possibilità di gestire la stessa resistenza, di richiamare per l'appunto quei presupposti neurali, ma con più facilità, quindi meno serie e meno ripetizioni, quindi anche miglior gestione tecnica e dopo magari si fa una serie da 8-10 con 50-55 kg, dipende. Tutto il resto può essere impostato sul range di lavoro dalle 3 alle 4 serie, dalle 8 alle 12 ripetizioni, quindi aperture, chest press, alzate laterali, eccetera, 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 è soltanto un'idea questa per darvi ecco la tipologia di input, così come per quanto riguarda la sessione di pull e di lower, avremo calf, squat, leg curl, rematore, lat machine o trazione, un curl a scelta e degli affondi, affondi in camminata. Cosa non funziona su tre volte a settimana? Non funzionano molto bene, a mio parere, tutte le split che si esauriscono in due microcicli, per esempio upper, lower, in cui andrò a fare nella settimana 1 upper, lower, upper, nella settimana 2 lower, upper, upper, queste sono tipologie di split che a mio parere funzionano meglio su quattro giorni a settimana, per esempio avete 5 split differenti, vi allenate quattro volte a settimana e andranno a ruotare, ok? Su tre volte a settimana non funzionano un cranky, così come la classica push-pull legs, non la vedo un cranky né per un neofita né per un intermedio, un avanzato potrebbe muoversi e gestirsi in maniera differente, soprattutto allenarsi più di tre volte a settimana. Non funzionano neanche tanto bene delle sessioni troppo specifiche, come per esempio la classica giornata di braccia o di sole e spalle, perché con tre sessioni a settimana poi si concentrano troppi gruppi muscolari sulle rimanenti o si va a ruotare con le sedute, che non vedo molto produttivo. Fatemi sapere se avete gradito questo video, se vi piace possiamo anche farci una chiacchierata su una ripartizione su 4-5 split settimanali, vi auguro una buona continuazione e a quanto prima, grazie per i feedback!